C'è un po' di rinnovazione, c'è un po' di rinnovazione, c'è un po' di rinnovazione. se trovi difficoltà per andare in giro, non è quello giusto puoi usare questo chiaramente non puntare al petto però facciamo il genere questo è la sì questo qui basta è il primo invece perché abbiamo questo poi è divasto in segmento chieda diciamo che l'ho detto io no questa questa prolunga possiamo mettere una presa di ciambelli 10 perché praticamente non fa 3,5 con un aspirato di diciambelli e quindi ci vuole una presa di diciambelli o sono tutte impegnate sono tutte impegnate grazie grazie Grazie. 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 da volare non va bene diciamo ecco qua Ieri abbiamo anche mostrato questa tradivologia di presa che è una presa multiservizio che permette l'inserimento di due spine contemporaneamente. Possono essere due spine di 10 ampere, due spine di 16 ampere oppure due spine. Oltre che inserimento di 16 ampere, se volete metterla a 10 va bene lo stesso. Fino a quando mettiamo il piccolo sul grande non sbagliamo mai, quando mettiamo il piccolo non va bene. La giornalmente è una mappana perché le consegniamo. Ok, grazie. La maglietta è un po' anzio. Come fanno? Mi sta presa, la monta del spine. Tu monti la spine e poi dopo proviamo la prolungatura e la prolungatura se vuoi. e vediamo cosa ne riuscite. La tua spine è nel finale. La tua spine è nel finale. Si va allenato, capito? Fammi vedere un attimo. Vedi tutti questi pelucchi che si sono formati? Un grosissimo. Bravo. Ciao. Allora, domani abbiamo detto, prima di fissare, innanzitutto dobbiamo fare questo in modo che i figli siano verso l'alto. Ok. 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 Ok.